Sì, direi, penso che complimenti bisogna farli principalmente ai ragazzi. Una partita che che se ne dica, come avevo detto, dovevamo darci una svegliata, dovevamo fare in modo di uscire dalle targue, quindi il fatto che il nostro signore abbia detto a Lazzaro alzati e cammina, direi che è stata una cosa finalmente che è arrivata e questo è frutto del lavoro di tutti, dalla società passando per il magazziniere per aver preso una boccata d'aria. Beh sì, sicuramente sì, avere tutta la rosa a disposizione mi comporta di provare tante soluzioni per le loro caratteristiche, quindi ho sempre detto questa rosa deve essere tutta a disposizione e allora sia il sottoscritto e sia i ragazzi ci giochiamo tutte le frecce che abbiamo nel nostro arco. Ma se vengono meno, come ho detto in precedenza, alcuni elementi che possono essere ai fini importanti poi per la continuità, per la continuità che possano essere delle prestazioni, fa in modo di ricordarci che siamo una matricola e quindi l'aspetto emotivo, l'aspetto emozionale e tante volte può fare da padrone. Allora, inizialmente sul discorso partendo da dietro è stata una scelta in dolore ma ho la responsabilità di prendermi le decisioni e quindi credo che come ho detto altre volte Favaro stava facendo delle ottime prestazioni ma come sempre capita, tante volte l'allenatore si trova un qualche cosa di diverso. Io credo che questa settimana Pektovic è cresciuto moltissimo, a differenza dell'altra settimana e quindi ho fatto in modo di cercare di dare anche alla squadra quei centimetri che nell'altra caratteristica non c'era, ma questo non significava che Alessandro non stesse facendo bene. In merito in mezzo al campo mi serviva un giocatore dotato di una tecnica importante, ci abbiamo lavorato molto, lui è stato molto paziente che è già donato, ha ascoltato sulle cose che doveva fare, direi che fino a che ha retto fisicamente il ragazzo si è ben comportato. La valutazione mi servivano due interni che corressero per tre giorni di fila con forze e con quantità in mazzocco e in corti e poi ho cercato di dire a Marco, a Cunico, di fare da intermezzo tra il centrocampo e l'attacco per venirsi a prendere tutti quei palloni corti e tutte le seconde palle e direi che l'ha fatto in maniera ottima. E poi ho cercato di alzare la fisicità con Neto e fare in modo di attaccare gli spazi con un giovane che conosco molto bene e che so quello che mi può dare. L'atteggiamento nostro era un atteggiamento che per forza di cose volevamo andarcelo a prendere, quindi Lazzaro alzati e cammina con uno schiaffo o qualche cosa abbiamo dovuto fare in modo di andarcelo a prendere, quindi nell'entusiasmo, anche al rischio di sbagliare, anche al rischio di modificare alcune situazioni nostre, abbiamo fatto in modo di andare subito ad attaccarli alti senza mai far giocarli. Poi dopo loro hanno cambiato modulo, si sono messi a specchio e comunque abbiamo continuato a giocare, i ragazzi era quello che desideravamo tutti ed è quello che ho chiesto ai ragazzi, il fatto di giocare la palla da dietro e di fare in modo di alzarsi tutti assieme. Poi la scelta di Petrilli è dovuta a un atteggiamento tattico da parte del Mantua che era molto alto con la difesa e quindi mi serviva un giocatore bravo tecnicamente e molto veloce che potesse andarsene in porto da solo o con un lancio oppure in un uno contro uno e manca farla apposta e è successo quella cosa. Quindi bravi, bravi ragazzi. La squadra è totalmente diversa rispetto anche a sui sei giorni fa con due giornate, che cosa è toccato in settimana? Non può essere solo la presenza di Neto Pereira a fare la differenza da un atteggiamento all'altro? Io credo che tutto l'11 si sia mosso bene, non soltanto Neto. Credo che abbiamo, con la rosa disposizione, ripeto, ho fatto in modo di cercare di dare il giusto equilibrio, la forza, la tecnica, la quantità e la profondità. Però le scelte tante volte che si fanno sono sempre figlie del campo. Se loro lo interpretano bene, allora le cose, secondo la mia idea, possono esprimersi in una certa maniera. Se loro non si esprimono tanto bene, tante cose non è che possono, non è che abbiamo la bacchetta magica. Se voi pensate che comunque il 4-3-1-2 oppure, dato che ho giocato leggermente con cunico un po' più basso rispetto a prima, perché volevo che non si alzasse troppo per venirsi a prendere questi palloni, abbiamo fatto in modo di avere due attaccanti con forza, qualità e gamba. E allo stesso tempo con 4 centrocampisti di quantità e di qualità. Quindi direi ancora una volta bravi ragazzi. Ciao, 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 prego. Se parlo di un'altra, se non c'è un altro video, un altro video, un altro video, un altro video, due squadri, magari abbiamo più o meno di questi due problemi, ma poi la partita è provocata, se non c'è un'altra, se non c'è un'altra, se non c'è un'altra, se non c'è un'altra, se non c'è un'altra. Grazie, grazie. In generale c'è sempre qualcuno che bisogna, secondo me, tappare la bocca, no? Io penso, anche nella vita, come nella vita, io penso che qualcuno, prima di parlare, io dico sempre che parlano sempre quelle che si devono star zitti, non c'è cacchio da fare. Ma a me interessava la reazione dei ragazzi, in primis. Potevamo prendere gol, ma comunque avevamo la testa per andaglielo a fare, per giocare, per creare. Io credo che prima che loro facessero qualche altra azione, forse ne abbiamo mancato una a noi con o Berzotti, o Neto Pereira, o Corti, adesso non ricordo i primi 45 minuti. Sì, adesso non ce l'ho presa. Dico, continuo a dire, bravi ragazzi, teniamo i piedi ben saldati per terra. Abbiamo preso una boccata d'aria, appena appena, ok? Abbiamo bisogno di respirare meglio, quindi facciamo in modo di continuare a lavorare, sperando sempre di avere una rosa al completo, anche se bisogna fare in modo di essere attenti chi è dietro, nel cercare di dare qualcosa in più. L'abbiamo presa un po' sui denti nell'ultimo periodo, e quindi facciamo tesoro degli errori, e guardiamo avanti sempre il futuro con grande fiducia verso questi ragazzi.